Da dove partire per costruire il mondo nuovo? Dove inizia la ripartenza post-pandemia? Queste le domande alla base della convention della Fondazione Guido Carli a cui hanno partecipato imprenditori ed esponenti del mondo politico-istituzionale. 3. I punti programmatici per rimettere in moto il paese, transizione ecologica, ritorno in Italia dei giovani talenti e trasformazione digitale. Sullo sfondo, i fondi del programma Next Generation U e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che però, afferma Cingolani, è solo una scintilla, da solo non può fare la differenza. Per il Ministro della Transizione Ecologica bisogna prima decidere la definizione di mondo nuovo e di transizione ecologica, ricordando sempre che non c'è cambiamento climatico che può essere scisso dalle disuguaglianze globali. Se noi investiamo, investiamo da sette anni per la transizione, quando si investe in transizione vuol dire investire e cambiare la tipologia di investimento, quindi non più investire solo nell'olio e in gas. Adesso una grossa percentuale, ormai da anni, perché dobbiamo prepararsi, sono in quelle tecnologie che hanno impatto a zero, che ci portano a 2030 a avere impatto a zero sull'Upstream, in 2040 su tutta l'Ene, a 2050 su tutte le attività, quindi anche lo Scop3, che è la parte più importante, perché lo Scop3 è 10 volte, 12 volte quello che è la produzione primaria di CO2. E quindi è una strategia che punta moltissimo sull'economia circolare, sulle rinnovabili, sui clienti, su tutta la parte bio e soprattutto sulla trasformazione della chimica tradizionale in chimica verde e della raffinazione tradizionale, che utilizza petrolio, invece con agricoltura primaria, ma soprattutto tutto quello che viene chiamato il feedstock advanced, cosa vuol dire? Tutta la parte degli scarti, dai grassi animali, dagli oli fritti, a tutto quello che deve essere ricircolato e trasformato in prodotti, perché c'è l'elettricità ma poi ci vogliono fare anche i prodotti, tutto quello che ci circonda e quindi che deve essere ritrasformato, ma con un impatto ambientale zero. Queste cose le stiamo facendo senza PNRR, cioè noi parte dei nostri ricavi li indirizziamo sulla trasformazione e fino a quando saranno il 100% della grande trasformazione dell'Ene. Importante trasformazione è quella che coinvolgerà anche l'editoria. Un settore, spiega Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e RCS, che rappresenta un grande motore di democrazia e che nel futuro avrà grande evoluzione. L'importante per Cairo è che l'editoria resti libera ed affidabile. Dobbiamo, dice, investire in tecnologia, qualità e contenuti. La carta rimarrà una parte significativa, ma non la più importante. Grazie a tutti.